Ciao ragazzoni bentornati sul canale, oggi continuiamo con la serie di Far Cry 6, ragazzi mi sto facendo una sessione di Far Cry 6 che è un po' infinita, infinita perché devo continuare, voglio finirlo perché ci sono nuovi titoli in arrivo e ci sono altre cose che vorrei portare su questo canale. Mi raccomando ragazzi appunto iscrivetevi al canale e supportate tutto ciò perché altrimenti è tutto inutile, è tutto inutile. Dai allora oggi è meglio che andiamo a conoscere appunto queste fanatiche leggende del 67 perché vi rendete conto che questa missione dovevamo farla un po' di tempo fa perché è a livello tipo 4, adesso sono a livello 12, 13, fare le secondarie. Ah ragazzi poi pagina Facebook mi raccomando eh, pagina Facebook io porto delle gare, mi sono di secondare sempre di Far Cry 6, un sacco di roba fighissima, andatevelo a vedere. Allora per quanto riguarda invece le leggende io vabbè mi sono teletrasportato qui in un punto più vicino e direi di raggiungere appunto questa zona. Incontra il tigre nel campo delle leggende nel 67. Andiamo, andiamo a incontrare questo e il tigre. Allora, 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 allora. Devo smettere di dire allora, devo smettere allora, comunque. Devo smettere di dire tante cose, devo cambiare un po' il commento di sui canali, sul canale perché comunque mi sta annoiando, annoia pure me quando guardi video. Iscrivetevi al canale, ragazzi, iscrivetevi al canale. Oh, siamo arrivati eh. Sì, sì, sì. Molto artistica. Bello. Bello. Cose che esplodono. C'è del metallo, me lo prendo. Pronto, pronto. Buonasera signora, sapete dove si trova il tigre? Signore? È il tigre? È il tigre, signora? Vabbè. Ciao bello. Che i cani, i cani quelli che trova in giro non si possono accarezzare? Salve, è il tigre? No. Hola. Eh, capretta. Continuiamo a vedere. Cacciatore? Ah, beh sì, è vero, perché ci sono altre foto. Quindi sono tre. Bellissimo. Che bello, raga, però. Ah, devo farmi proprio la scalata? C'è. Mazza che posti, però. Io adoro i posti così. Troppo bello, troppo bello. Allora. Quante capri ci sono? Quanto cazzo ve la tirate? C'è. Wey, non mi cadere giù, eh. Dai, fai il parkour decent. Dai, cosa per il campino? Quello va. Ah, devo... Aspetta, non c'è qualcosa che... Ok, devo fare così. Vai a penzoloni... Opa! Vaffanculo! Oh! Sali qua sulla liana. Ok, poi... Come usa zippa, eh? Ah, devo usare la zippa, eh? Ok. Scusate, 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 chiunque ci sia lì sotto, non l'ho fatto apposta. Madonna. Caduta massi! Caduta massi! Sì, sì, l'ho già liberato, l'ho già liberato. Ma c'è un'acqua che mi sta puntando. Ma c'è un'acqua che mi sta puntando. Scusate. Oddio. Ok. riusciremo ad arrivarci da sto maledetto tigre! Vai! Scusate, scusate! Scusate! Ma che usato! Bellissimo! Let me guess. Siamo arrivati! Lobo è sempre il primo a scadersi contro l'ingiustizia, non vedi mai la fine dell'evoluzione, cari prima dell'assalto finale, hai speranza. Ah, Lobo, un revolucionario, un guerriero e un amico amico, morto in combattimento quando stavolviamo l'esperanza nel 67, a mattina c'era l'anniversario della sua morte. Questo esplende l'ingiustizio. Ogni anno ho drink due bottone di rum, una per me e una per Lobo. Ma questo penso che sia la loro aria, no? Eccoci qua, picco Patriotas! Sei in cima al mondo! Siamo arrivati! Incontratore al tigre al campo! Che bello però, è il campo forse più bello che io abbia mai visto fino ad ora. Così su piani! Eccolo il tigre! Eccolo! Eccolo! What the hell? You're trapped. Death is staring you in the face. What do you do? I've been kicking the cojones a thousand times. I haven't felt them since 72. Never do that again. What? Come on. Me in the family. Lucky, my nose is broke again. I'm not your fucking mother. There are people out there. Who are actually hurt. I am suffering. Easy, mama. Herpes doesn't count. Meet Rovince of Canseco. Poet of the legends. Well, I sense the hot blood of a fighter. And of course, you know lucky mama. Heart of the legends. It's not broken. Really? I felt it go crazy. Another patient? Looks like la morale to me. I'm Danny Rojas from Libertad. The new fist of the revolution. No, Clara sent me. Libertad needs the legends on our side. Heroes to believe in. To fight another Castillo? He's exactly what Yara deserves. Buena suerte. Sorry. One revolution was in us. Looks like Clara was wrong. Of faith, Danny. They just need to get to know you. Come see me when you get settled. My baby tigre. Ok, ragazzoli. Qui chiedo scusa, ma ho dimenticato il microfono spento. Cioè, ho dimenticato di accendere il microfono. Vabbè. Comunque qui andiamo ad accettare quell'altra missione del tigre. Prendi le medicine. E nulla. E praticamente poi accettiamo e ci rechiamo appunto nel posto in cui dobbiamo andare. Quindi pigliamo l'elicottero. E nulla. E ci rechiamo. Qui vabbè, piglio la moto. E nulla, e nulla. Io non so fare la voce fuori campo. Che devo fare? Non ce la faccio. E nulla, e nulla. Questo è molto facile. Che vola! Chi sei? Qui è la morale. E l'estero è il nostro paese. Il nostro paese, il nostro paese. Hai praticato questo spazio? Sì. Questo è il proprietà della libertà. Ah, libertà! Cioè, tu avessi venire a chiedere per il nostro aiuto. Ci dovremmo combattere in Castillo insieme. Io ho ron, second in command. E niente ragazzi, qui di nuovo, nonostante comunque c'è stata la transazione, io ancora non ho visto praticamente l'iconcino del microfono disattivato. E nulla. E qua vi dovete praticamente assorbire tutto l'assalto della zona da parte delle guardie, dell'FND, del nostro Dottor Castillo. E nulla. Vi lascio all'assalto. Divertitevi. Cioè, vedere l'assalto che io che parlo come un pirla da solo lì. È comunque divertente. Cioè, fare l'assalto che io sono in fronte! Cioè, guarda! Guarda! C'è! Guarda! 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 A presto! Sì. dinheiro grande trabalho ti ha talent contractor. but juliana needs these supplies we got wounded. juliana is your boss? yeah, she's gonna kick my ass if i don't come back with something. clara is gonna try to kick mine if i don't bring these to the legends. libertad wants the legends of 67. half of yara thinks they are dead. oh they're very alive and half of la morale, things are full of shit. ma ho migliorato nella storia loro hanno pagato il sangue per mettere il papà Anton nella sua grava ti dico se ti dimenticare queste suprie io ti introducirò ah, coño Yelena's gonna kill me ma almeno ho dovuto incontrare le leggende prima ora Dani, tu prendi un chopper e poi possiamo parlare suprie benvenuti alla morale libertà, whatever ok ragazzoli, ci siamo scusa, ho dimenticato di riattivare l'audio dell'audio, del microfono comunque allora, trovo un elicottero torna con un elicottero per sollevare il carico ok, l'elicottero l'ho trovato però non l'ho letto in alto a sinistra c'è scritto devo risultare a continuare prima di volare beh, in effetti ha ragione porca caccia la miseria eh, in effetti si devo distruggerla ok, è qua vediamo un attimo allora, questa è una contraerea nessun problema facciamo fuori chi di dovere è andato sì, dai e farmi recuperare anche un uranio impoverito eh, siccome quell'elicottero è già danneggiato vado a recuperare questo il problema è che ah no, no, passo a posto non ce n'è un'altra di contraerea boh, possiamo andare allora a caricare allora, questo è il punto dove noi abbiamo praticamente conquistato la zona vediamo se ok, sì, ti vedo ti vedo ho visto il flare salve, salve salve con la moral la moral terrorista buon ron, questo è Lorenzo io conosco chi è credo che il nome che sta cercando è guerrilla non sono guerrillas, sei una ganga di strada e noi non stiamo scendendo nella montagna mentre il mondo va a andare a scendere avete visto cosa sta succedendo là? andate, guardate il mio avivio te lo scendere le leggende non prendono ordini da monarquisti entiende? enough Lorenzo no, sai cosa? f*** di te la morale è mantenere i lavori questa è la nostra revoluzione non la tua un parma è stato incontrato in la scuola oggi ha fatto una scuola in il cuore senza questo non lo farà mai non lo farà mai la mia mamma molti delle scuole che ho scendere sono la morale c'è una differenza tra giocare con la scuola e combattere la rivoluzione un tigre sì si questi abuelos vogliono vivere in un museo o quale a qui le importa potremmo prendere alcuni souvenirs parlami quando hai un minuto ok e anche questa è completata molto bene molto bene vabbè raga vediamo un attimo livello 15 vai così allora vediamo un attimo qua a parte che abbiamo sbloccato altre cosine da fare poi me le farò io off camera abbiamo due missioni allora andiamo in diario che sono più chiare adesso dice il tigre se non vedono ci credo il tigre a queste foto valgono le mie voci e nessuno sa cosa succede nella unità di dare la struttura biovida se hai ragione io ho una legione così ottieni delle prove fotografiche e mostro allea Lorenzo ok e poi abbiamo sbloccato anche questa aiuta i giovani guerrigliere nelle loro missioni in realtà dovevi dimenticare le leggende le 67 e allearsi con la morale devi dimenticare le leggende le 67 e allearsi con la morale siamo quelli che vogliono realmente liberare ls da Castiglio il primo passo è parlare con la mia capa anche potremmo andare a conoscere anche il capo oppure vedere che cosa dice che cosa ci fa fare appunto è il tigre? no dai abbiamo qua davanti il tigre vediamo dai vediamo qui nel tigre vai se ne vedono ci credo allora indaga sulla struttura biovida molto bene coca tra arrivo eh ma se che fiamma eh non è che andiamo no no non andiamo da nessuna parte adesso io qua chiamo l'elicottero e vado a raggiungere sta struttura biovida prima cosa che vi consiglio di fare ragazzuoli è buttare giù tutti il cannone di contraerea perché altrimenti dovete fare così dovete praticamente viaggiare bassi completamente bassi tutto il tempo bambi tigre mentre stai all'elicottero c'è qualcuno che voglio guardare chi? il nome è Gabriella è un uomo è un uomo della città è un uomo da città e città lorenzo l'uomo 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 è i capelli colorati allora dobbiamo quindi conquistare sta mhm zona allora buonasera signori signorini posso pensare ok prossimo caccia la miseria ok cerca prove nella struttura biovida scattare foto ok per estrarre il telefono si questo lo sapevamo già e punto il bersaglio usare i vibro e scattare una foto ok va bene va bene qua c'è l'allarme vediamo se riusciamo vediamo se riusciamo a what are they doing with the bodies ok scusa non posso conquistare lo faccio prima usa chiave eeeh ok ma delle foto di che tipo c'è nel senso di foto basta ma qua non posso entrare vediamo ah si ah si qua qua what are they doing to this ponio they're using humans like rats what are they testing ok castillo's not going to get away with this i need more pigs i need more pigs so come più foto si si con calma ci arriviamo con calma e descrizione lasciamola qua devi andare nella nuova zona di più ok madonna si è zitta L'amplano So-called legends of cities But it's time to call them what they really are Traitors, thieves, murderers Those look like cages But for what? I don't have a bit of control Attention These people are sick Chi è? Nooo Pinga, pinga Eh, devo andare nella zona dove ci sono quelli militari adesso Mamma mia, che cos'è? Il laboratorio di umani Magari sono gli effetti del... Di quella cosa di che straggono dal tabacco Stai zitto, stai zitto, stai zitto All'armo, all'armo di tua sorella Ok, vabbè, quindi tutti la stiamo ripulendo Cosa c'è il bambino? Eh, io non mi ci butterei dentro lì, eh C'è qualcosa qui che mi interessa Vediamo Vediamo Cosa succede? Mamma mia, vada la Cioè, però... Beh, ci sono due uomini e due uomini Mamma mia Il tigre? I've got the pics You won't believe what they're doing to our people It's horrific Oh, I believe it But it's Lorenzo when he's convincing And what about Gabriella? I don't know Stai Stai Vabbè, parla con Lorenzo il campo delle leggende Me ne devo andare di qua Lorenzo Lorenzo I took pictures of that place Honrón was talking about You swipe To the left They look free to you Merda This is what Libertà and La Morale are fighting You can hate us, but at least we're doing something about it No one deserves this Lorenzo This is happening all over Yara You just can't see it from so high up this mountain I can't look at this anymore I did not vote for Castillo The war is over So that was always That's the end You shoot the tree Ok, ragazzuoli, anche questa è andata Eh, ok Beh, non è che abbiamo visto proprio delle belle cosine Allora, per quanto riguarda il tigre Abbiamo sbloccato un'operazione nuova Vediamo un attimo Penso che, boh Però oggi va bene con Far Cry Allora Porgi le mie scuse e abbi più coraggio di me Rimpianti notanti La dolce amigolina La prima donna in cui mi sono innamorato Durante la rivoluzione del 1907 Anche il primo cuore che ho spezzato Eh, forse questa non è una sia Va bene È una storia Yara Però non è una cosa che Eh, insomma Magari porterò qua sul canale Quello che porterò magari E sarà quella di conoscere appunto Il capo Del Della morale Comunque ragazzuoli Io con questo è di terminare l'episodio Mi raccomando Iscrivetevi al canale Link in descrizione Pollicione Con il video Così almeno ci facciamo conoscere Da tutto il world Da tutto il world E ci vediamo Al prossimo video Ciao belli